Si torna in aula il prossimo 11 ottobre, non più però al primo piano del Tribunale di Trani, bensì nell'aula bunker del supercarcere. Intanto, nell'udienza preliminare il GUP, Angela Schiragli ha dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile di tutte le persone offese, familiari delle vittime, associazioni ed enti nei confronti di Ferro Trambiari e S.P.A., accogliendo dunque l'eccezione proposta dal difensore della società, l'avvocato Michele Laforgia. Il giudice ha sciolto la riserva nell'udienza preliminare in corso a Trani per il rinvio a giudizio dei presunti responsabili del disastro ferroviario che il 12 luglio del 2016, sulla tratta Andrea Corato, costò la vita a 23 persone ed il ferimento di altri 51 passeggeri. Ammesse le costituzioni di parte civile nei confronti delle 18 persone fisiche imputate, Regione Puglia, Comuni di Andria, Corato, Ruvo, oltre ai familiari delle vittime. Secondo le indagini della magistratura tranese, il disastro ferroviario sarebbe stato causato da un errore umano, ma sono ritenuti responsabili anche coloro che non avrebbero vigilato sulla sicurezza di quella tratta binario unico con blocco telefonico.